Le chiedo davvero in un telegramma, leggo dalla Repubblica, Berlusconi avverte senza agibilità politica scateneremo l'inferno, che vuol dire? Insomma, vedremo che cosa si deciderà, perché è chiaro che eliminare, come è stato eliminato per via giudiziaria un leader che gli italiani ritengono tutti innocente rispetto a questa condanna, Non così la Cassazione, diciamo? No, scusi, la Cassazione ha smentito se stessa, perché Berlusconi era stato assolto per la stessa cosa un anno prima dalla stessa Cassazione che lo ha condannato. Allora, se è vero che il nostro consenso è in ascesa, da quando Berlusconi è stato condannato, questo significa due cose, Uno, che gli italiani ritengono Berlusconi innocente e un perseguitato, due, significa che gli italiani confidano solo in Berlusconi Scateneremo l'inferno, che vuol dire? Beh, vedremo, scateneremo, troveremo il modo per far scapire agli italiani che un'ingiustizia come questa è un colpo di Stato. Un vero e proprio golpe. Grazie a tutti.